Partanna non ha dimenticato Rita Atria, la giovane testimone di giustizia che ha accusato i mafiosi del suo paese. Dopo l'omicidio del padre, il boss Vito Atria e del fratello Nicola, la siciliana ribelle ha raccontato a Paolo Borsellino i segreti di Cosa Nostra. Ripudiata dalla madre, Giovanna Cannova, che la voleva omertosa come da tradizione, Rita aveva trovato in Borsellino un punto di riferimento. Dopo l'uccisione del giudice, Rita si è tolta la vita il 26 luglio del 1992. Rita io l'ho avuta in terza media, le avevano ucciso il padre da poco tempo, quindi era molto chiusa e non legava bene con i compagni. Era una ragazza profonda e una ragazza capace, solo che siccome io insegnavo lettere e facevo i temi, nei temi io vedevo che aveva qualcosa dentro che la turbava. Un giorno l'ho chiamata, io l'ho chiamata in disparte, quando è finita la scuola e ho chiesto cosa avesse, se poteva confidarsi, se io potessi darle qualche consiglio e mi ha confidato che aveva problemi con la mamma perché non voleva che avesse rapporti con il fratello. Quindi era tutto questo e lei faceva del tutto per andarci di nascosto al fratello, perché il fratello era tutto per lei. Se i ragazzi non si uniscono tutti e fanno la lotta contro la mafia, noi non vedremo mai e non possiamo vedere progresso nella nostra civiltà e nelle nostre città, perché se la mafia non si combatte non avremo libertà. Rita mi ha dato molto da pensare, Rita è stata per me una donna, non una ragazzina. Rita mi ha veramente dato a tutti un insegnamento di civiltà, perché è questa la civiltà, non farsi sopraffare da nessuno.